Cazzo brava, mi piace ancora, guarda la foto, gli abbiamo fatto con l'America il pre, era la copertina del disco Sì, diciamo che non è una fiaccola quella però No, è un... Il mio babbo crede fosse un missile quando scoprì che invece era un vibratore Ecco Chiamò, non ce lo dire, scrisse una lettera A lei? Disse mi dispiace ma mia figlia non si può chiamare Nannini di cognome Ma davvero, purtroppo l'abbiamo persa No, però... Però mi chiamai Gianna Nanni, però durato due giorni perché poi si chiamava Nannini No, lui poverino mi chiese se poteva chiamare e cambiare cognome Dico, ma è una persona deliziosa Dico, puoi andare in comune, disconosci la paternità e la chiamiamo in un altro nome Ma lei era giusta, era Gianna Nannini Ma ragazzi però, che storia, la storia di Gianna è... Eh, storica, storica Ma la carica, ma la vedete la carica che ha Soul, proprio l'anima? Nell'anima No, ci sono arrivato a fare questo disco È difficile fare un disco considerato Soul Mi sembra proprio una cosa un po' presuntuosa Però sicuramente mi sono avvicinato, penso Eh sì, no... Poi stanno succedendo cose bellissime quest'anno Adesso diamo le date del tour appena le trovo Ma adesso il 2 maggio su Netflix, peraltro, va anche in onda un film Proprio un film che è La vita di Gianna Nannini Si intitola Sei nell'anima Fino a 30 anni però Fino a 30 anni Sei nell'anima, si intitola per la regia della Torrini Cinzia Torrini Che è tratto dalla tua autobiografia di qualche anno fa E anche lì c'è Gianna interpretata da Letizia Toni E Andrea De Logo che interpreta Mara Maionchi Perché sono storici i vostri litigi anche Tu una volta hai dato un pugno alla scrivania e hai spaccato il vetro Sì, per non darlo a lei Cosa avevi fatto Gianna? No, me l'ha messo in conto royalties Ma no, ti ho messo la falderia in conto royalties Già non vendevo un disco In conto royalties ha messo sul futuro proprio Eh certo, perché te lo meritavi Scusa, ma una che va a far lavare i vestiti mi mette a me la fattura Ma gliel'ho stracciata davanti Ma dico, ma non ti vergogni Ma guarda, una roba Perché i toscani sono un po' Questo film, come Mara, è interpretata la De Logo Ma io sono stata interpretata da una ragazza strepitosa Ma è pazzesco Letizia Toni è un'attrice strepitosa Ora vedrai un so che c'è Assomiglia anche molto, io l'ho vista, lo conosciuto No, ma la voce Tutte e due toscani Ha studiato il tuo timbro addirittura Ha studiato un anno e mezzo Ma non avete idea di che cos'è? Esce il 2 maggio su Netflix Abbiamo un frammento in cui ci sono Ci hanno dato un frammento breve breve In cui ci siete voi due, prego Il 4 aprile arriva nelle sale cinematografiche Zamora che segna il suo debutto come regista Stasera è con noi Insieme a uno dei protagonisti del film Neri, Marco Re e Giovanni Storti Cos'è la vita senza l'amore È solo un albero che poi non ha più È senza il vento Non è l'amore Giovanni Storti e Neri Marcorezza Eccoli qua, benvenuti Adesso parliamo di un film davvero speciale Andiamo a sederci là, prego Grazie C'è un posto per ognuno Come vuoi, come volete Mi metto di là Perché se no tu sei un po' alto, mi copri Allora mettiti sopra di me No, no, no Siedo qua Come vuoi E però guarda che tu sei più alto di Luciana, eh, tanto Ma No, no, lascia stare Siamo lì Allora, come ha detto Filippa Il 4 aprile arriverà, come dicono i giovani Nelle sale cinematografiche Zamora Che è il debutto alla regia di Neri Tu hai chiamato poi accanto a te Cagli e Porci No, amici in realtà Sì, beh, non solo amici Ma insomma sono partito Devo fare una premessa Sì Zamora è un film bellissimo Cioè lo dico così Però l'ho detto tu No, lo so Me l'hanno detto infatti Sì, ecco Ma l'hanno detto di qualcosa Vabbè, no Ho chiamato sì Giovanni in effetti è stato uno dei primi che ho chiamato Ho detto guarda Stiamo scrivendo questo film E vorrei che ci fossi E lui Che hai detto tu? Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Posso dire una cosa seria al pubblico Allora io conosco Neri da sempre Ci vogliamo bene Siamo amici Quindi so che è difficile essere in questo caso creduti Però è davvero un film prezioso Proprio un film delicatissimo Una bellissima sorpresa È proprio un film bello Pacevole Che uno dice Oh Oh Guarda Grazie Che meraviglia Una storia Oh vedi che ho fatto bene andare al cinema Grazie Perché a volte Ho capitato Di andare al cinema Guarda Potevo fare altro Ecco Questa volta è proprio un debutto Insomma Proprio una bella sorpresa Ecco Più bello della camicia di Giovanni Che però è Sì Ha una storia È maculata Voglio sperarlo È maculata Perché ho sentito che una che sarà qua fra poco ha un problema alla retina Alla maculatosi credo che si chiami Maculopatia si chiama Te l'ho detto prima E quindi io ho voluto omaggiarla con questa camicia Ma chi è che è la maculopatia? Chi? E non è che posso dirlo così su due piedi Quando entrerà lo dirà lei Fa bene Un omaggio a lei Un omaggio a lei? Sì Perché non è neanche un animale che esiste Ma secondo me invece no È tipo un lavaggio andato male È una delle camicie più belle Vero? Che ci sia in giro Cioè tu hai visto Tutte le persone che sono venute qua Erano vestite nero, nero e bianco Cioè Arriva uno con un certo stile Con un certo glamour E tu? No, ce lo si ricorda Tu lo abbini alla glamour Io ho una stima infinita per te Giovanni E anche per la mia camicia Ma sì Poi da quando abbracci tutti i gerani Le cose per strada Io ti Eh lui Anche sul set lo faccio Ma tu sai che lui non mangia un'insalata da due anni Quando c'è un'insalata lui parla La carina le chiede scusa Ma sì Il mais si appassisce da solo Non sta più Immagrito tantissimo Eh sì Ben torniamo al film Torniamo al film Torniamo a Zamora Anche a me ci ha avuto il suo spazio Torniamo a Zamora Allora Però non è la prima volta che lavorate insieme È la prima volta da regista Sì sì È la prima volta Com'è? Com'è? Che vengo a dire Beh devo dire che è molto tranquillo Mi ha stupito anche in quello Molto tranquillo Stupore per la mia tranquillità Non puoi dirlo Nel senso tendenzialmente Però sai di solito i registi Hanno sempre qualche scatto Qualche E invece lui no Molto tranquillo Molto preciso Quindi Mi ha stupito in bene Ecco E poi sai cos'è questo film Tu hai cominciato il cinema Diciamo con Pupiavati no? Sì avevo fatto qualcosa prima Anche con Luciano avevo fatto Ramanello Palli Piccoli ruoli diciamo No però con Altrove è stato Sì sì Il film Indubbiamente Ecco qui c'è un'atmosfera Voglio dire Insomma che ricorda Quella delicatezza Nell'affrontare le cose Nell'immagine Sì sì L'imprinting ovviamente Insomma è stata sì Effettivamente la mia prima esperienza Corposa con Pupiavati E sicuramente qualcosa Ho rubato da lui Ma anche da altri Però per esempio Una caratteristica di Pupi È che Spesso quando dirige gli attori Non sta nella tenda A guardare la scena sul monitor Ma sta vicino alla macchina da presa Sul set Lo senti vicino proprio E a me è venuto naturale Fare questa cosa qua Poi vabbè insomma Pupi Magari avere tutta la sua Pupi Allora C'è questa Sì perché il film è ambientato negli anni 60 Adesso Arrivo subito Abbiamo tratto la pubblicità Però io prima vorrei Raccontare la trama appunto del film Mi ha detto Giovanni Che ci teneva tantissimo A raccontare lui la storia Lo sai Io so dei pezzi Non ho Non la conosco proprio tutta tu Non hai studiato So che c'è di mezzo un portiere Non hai studiato Vai Neri fai tu Fai tu Io l'ho detto Vieni tutti i giorni Su set Io l'ho detto Allora il protagonista Tra l'altro appunto Il suo esordio In qualche modo mi ricorda Anche il mio con Avati Alberto Paradossi Bravissimo E Walter Bismara Questo impiegato Alberto Paradossi L'attore E Walter Bismara Il ruolo che interpreta Un ragioniere Sì un ragioniere Costretto a cambiare lavoro Quindi di spostarsi dalla provincia Alla città Vigevano a Milano Che sembra un viaggio epocale Perché siamo nel 1965 Esatto E lui che è un abitudinario Uno che non prende mai iniziative Si trova costretto passivamente A subire questa decisione Che hanno preso altri per lui Il suo ex datore di lavoro E si trova proiettato In una dimensione In cui non solo Appunto è già spaesato Nella sua situazione Andrà a vivere dalla sorella Ma è qui presente Giovanni Storti Ovvero il Cavaliere Tosetto Costringe tutti i dipendenti Lui è il nuovo datore di lavoro Di Bismara Il ragioniere Bismara È il classico imprenditore Intelligente In quegli anni Però molto temuto Dai suoi dipendenti E ha una mania Per il calcio Il calcio Che lui chiama Folber Secondo un'evolta Di Gianni Brera Appunto E costringe a tutti Per creare questo Questo spirito aziendale Insomma per cementare Anche l'amicizia tra tutti E giocare a calcio Il nostro protagonista Odia il calcio Un po' perché Un po' il confronto Con il maschile Un rapporto col padre Insomma qua si entra Nella psicologia Comunque lui dice Gioca in porta Non l'ho capito Non l'hai capito Gioca in porta Perché un tempo si faceva Che fai porta Chi non sa giocare Va e boh O palla Esatto E quindi lui pensa Di starsene tranquillo Lì in porta E invece Magliene incolse Perché appunto Si mette in scacco da solo Perché ovviamente Da portiere Prende un sacco di gol Il suo antagonista Uno che gli insidia Anche la ragazza Di cui si innamora Perché questa cosa Lo tira su Diciamo Nella nuova esperienza Almeno c'è una ragazza Che gli piace Sembra corrisposto Lo insidia Sia per quell'aspetto lì Ma lo prende in giro appunto Per il calcio Per il calcio Tant'è che poi Vabbè Lui dovrà Prendere una decisione A un certo punto E viene a contattare me Che sono un ex Portiere di Milano E nazionale Attualmente Abbastanza in disgrazia Preda all'alcolismo Al gioco d'azzardo E mi chiede lezioni Per diventare Un portiere migliore Per il motivo Lo scopriremo Per poter qui Attraverso Il calcio E attraverso Appunto Una partita A fine stagione Che si deve disputare E trovare il riscatto Nei confronti E della ragazza Di cui è innamorato E nei confronti Del mondo In qualche modo E tutti gli altri Da cui ha sempre subito Per tutta la vita In primis Il Tosetto Qua presente Il suo Dattore di lavoro Ditemi quando Dobbiamo andare in pubblicità Se no Mando una Prima scena Del film Mandiamola Allora Il cavaliere Tosetto Convoca Il neo assunto Walter Wismara Qui non c'è Neri In questa scena Che ha disertato La partita Settimanale E lo chiama E chiede ragione Di questa diserzione Prego Il fatto che Tosetto Sia molto interista È un'imposizione tua Ma in realtà No Stranamente È saltata fuori Da questa mente qua Dallo Juventino Io pensavo Pensa Che mano porto Che mano a me Mi apporto Sì Perché pensavo Che fosse un'adulazione Invece no Era già scritto così Sì No tra l'altro Scusa L'ultima battuta Quella lì È roba sua Nel senso Quando c'è un genio Diciamo Così Lasci lungo Prima di dare lo stop Aspetti un po' Anche il futuro Di tollerare Sei stato bravissimo È stato bravissimo Com'è? Quello ce l'ho imposto io Siccome in Cespico Tante volte È difficile Tollererare È più facile Dirla così Capito? Gliel'ho imposto io Quindi Gli ha detto No tieni quella roba lì Allora Mandiamo la pubblicità Per continuare a parlare del film Prego Rieccoci qua Con Neri Marco Re Giovanni Storti Per parlare di Zamora Il cinema dal 4 aprile In questo film Tra l'altro c'è una distinzione evidente Fra il ruolo maschile e quello femminile Cioè nel senso che in questo film Le donne ancora una volta rappresentano il progresso Il futuro E gli uomini sono questi bambinoni Che non crescono Che giocano a calcio Insomma Sennanzialmente È verissimo Sì sì Mi fa molto piacere questo aspetto Perché le donne sono tutte Libere Mature Diciamo Moderne E sono comunque iscritte Nello spirito degli anni 60 Nel senso che poi non prendono l'iniziativa Però quando poi tu le vai a interpellare Tirano fuori appunto una grinta Una libertà di pensiero Che mette ovviamente in scacco Tutti i personaggi maschili Che sono costretti a migliorare se stessi Proprio in virtù Delle varie Certo Film in costume In qualche modo Anzi no Senza qualche modo Perché ricostruisce Tra l'altro è anche Bello Diciamo proprio L'Italia degli anni 60 C'era una sorta di Pulizia Perbenismo Insomma Di cura Si aspirava a diventare migliori Magari Non c'era l'invidia sociale Se qualcuno stava più in alto di te Cercavi di studiare Di migliorare Per diventare come lui E non di tirarlo Tutte la ricordi quella Milano descritta? La ricordo Si ero bambino Però Insomma bambino Dai Ero già anziano in quel periodo Ricordo la grande Inter nel 64 Però a parte quello Si erano Anche quest'anno dai Non vogliamo parlarne o no? Ma lasciamo per Lasciamo per Però se vuoi parlarne No 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 Lasciamo per Siamo per Va bene No si Un po' di nostalgia C'è su Un po' di nostalgia Per quell'Italia c'è Insomma effettivamente si Quelle valere Quei posti che stiamo parlando Si Bar in quel Fatto così Con quei discorsi Insomma Le auto tirate a lucido Che venivano Lavate la domenica Nei cortili Adesso c'è poca acqua C'è poca acqua Anche perché abbiamo lavato tante auto Effettivamente E lavate troppe Lava 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 Adesso non c'è più Senti Zamora L'abbiamo detto perché Chi era Zamora? Zamora era considerato il più grande portiere di tutti i tempi Era un portiere spagnolo Negli anni 30 E tant'è che appunto si diceva Siccome nel film c'è anche Marino Bartoletti Racconta questa cosa che dice Ma chi sei Zamora quando facevi una grande parata Eccolo qua E quindi il nostro antagonista Cioè Walter Leonardi Quando deve prendere in giro il nostro portiere fallimentare Lo chiama Zamora appunto per Prendere in giro Prendere in giro Allora vediamo un'altra clip La seconda scena Nella quale appunto Walter Wismar Il ragioniere e protagonista di questa storia Incontra Giorgio Cavazzoni Ipotetico portiere del Milan Interpretato da Neri Marco Re Questo Cavazzoni ormai in disgrazia Dedito all'alcol Gioco d'azzardo Finito in qualche modo Distrutto nella sua vita e nei suoi affetti Lo incontra Malmenato tra dei creditori E gli chiede di aiutarlo Perché vuole diventare un portiere Per affrontare questa partita aziendale Prego Beh un po' c'è anche una donna C'è sempre di mezzo una donna Ha fatto notare prima Vedi il regista che bravo Neri Eh però si vuole l'occhio del regista Cos'è che hai fatto notare? Ma sì perché La camicia è ispirata a questi pesci È un omaggio diciamo L'ho messo a posto Tanto parlo di pesci di Corosso Brù, nero Dei pesci identici È proprio quella paletta È quella paletta di Colombo Guardato nel mio armadio Due camicie Questa gli andava benissimo Tutto questo racconto Deve portare a un finale Che naturalmente non vi svelo Ma che riguarda una partita di calcio Questa è la famosa partita voluta Qui dal Tosetto Dal Tosetto certo È la partita che chiude l'anno L'anno aziendale L'anno Tanto tu grande giocatore Io grande giocatore No? Ai tempi Mi chiamavano lo Jair Bianco Lo Jair Bianco appunto Sarà un motivo Non me l'avevi detto questo Dove l'avrei fatto Eh ma loro anche Nel loro film Il calcio c'è sempre Quello si Gira e rigira Sono cresciuto Gira e rigira il calcio è sempre Allora vediamo ancora un momento Del film Grande appuntamento Il trofeo Tosetto Ne vediamo Non svegliamo niente Diciamo l'abbiamo chiamato La partita Perché proprio è il momento In cui c'è L'evoluzione di questo Walter Wismara Che finalmente grazie Alle lezioni Che ha preso Trova forza Crede in se stesso E acquista anche carattere Perché è il portiere Che deve tenere Su tutto il resto della squadra Guardiamo Tra l'altro Un bel decalogo Bel decalogo Giusto Allora dal 4 aprile Al cinema Zamora Il primo film da regista Di Neri Marco Re Con fra gli altri Giovanni Storti Accoglienza straordinaria Ricevuta al Bari Film Festival Già venduto In 30 paesi Non perdetevi Zamora Al cinema Dal 4 aprile Grazie A tra poco Ci rivediamo al tavolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti